Parola d'ordine, felicità, a meno che non si sia parenti del Grinch e si voglia provare a sabotare il Natale. Troppo tardi, ovunque nel mondo, la festa è già iniziata, ancora prima rispetto allo scorso anno, quando di libertà ce n'era ben poca e lo spirito natalizio non poteva oltrepassare la soglia di casa. E così tutto torna ad accendersi, a brillare, le città, le lucire dei balconi, per strada e anche la voglia di condivisione, perché Natale è soprattutto questo. Un irrefrenabile desiderio di feste che include tutti, pure le istituzioni. Eccoli sono mozzatori dei vigili del fuoco di Sassari che depositano sul fondo del mare di Stintino il presepe e le statuine di terracotta realizzate dagli alunni disabili di un istituto locale. E questo è il video d'auguri della Polizia di Stato, con gli agenti che decorano l'albero in compagnia dei bambini. Natale è anche solidarietà, l'occasione giusta per iniziative capaci di fare la differenza. Il protagonista, ovviamente, non può che essere lui, Babbo Natale, talvolta anche più di uno, come qui a Madrid, dove migliaia di Santa Claus hanno partecipato alla maratona benefica per le vittime dell'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma. Prima in sella una slitta volante, poi in barca. Il Babbo Natale brasiliano ha già cominciato a portare i regali ai più piccoli. Molti, in particolare quelli dell'Amazzonia, non l'avevano mai visto e nemmeno avevano mai ricevuto un giocattolo. Come loro, anche i bambini dei quartieri più poveri di Caracas, in Venezuela. Qui San Nicolasse è arrivato a bordo di una moto rossa e un sacco pieno di doni le cornie. Moto al posto delle slitte anche a Sofia, in Bulgaria. L'estate del centro è invase da una marea rossa per l'evento di beneficenza annuale a favore dei più bisognosi. Ma Babbo Natale non dimentica nessuno. Eccolo, nello zoo di Lima, in Peru, giraffe, tigri, leoni, dromedari, tutti a Natale meritano un regalo.